ah ma hanno aperto e poi l'hanno aperto come è morto ma dice aperto di termite mai sempre sta qua da me ha tolto aperto dall'altra parte obbito sta sempre qua ragazzi la porta che hanno appena aperto lo sto coprendo io da questo lato poi coprite gli altri pulito e stiamo coprendo da questa altra entata hanno aperto ancora un'altra cosa credo ovviamente quanto è dentro c'è qualcun altro c'è qualcun altro vivo c'è qualcun altro vivo cazzo devo salvare questa la devo salvare aspetta ancora uno metti di coperta e ricarica sì allora la macchina non ho ricaricato per questo poi usate le telecamere rimane lì rimane lì siamo noi o te tu concentrati a sinistra la finestra la finestra a sinistra la finestra a sinistra e da fuori no ma non ti metti che parla se quella viene dal lino capitavo la finestra a sinistra e questo lo salviamo la titica della dell'era non non abbiamo è un po' di più è un po' di più è un po' di più è un po' di più